Pesco da lì. Eccoci qua Simone, ma è l'ultima volta che sei stato a nuotare? Quando è stato? Poche ore fa. Poche ore fa? Ma nuoti soltanto indoor oppure se ti invito a Brighton usciamo nell'oceano e nuoti anche in acqua outdoor? Molto volentieri anche outdoor, che poi piccola parentesi la mia fidanzata è di Bournemouth, perciò più o meno quella zona. Ho anche nuotato in mare in Inghilterra muta perché era gelido, era un paio di mesi fa durante il lockdown, però mi piace anche nuotare outdoor. La cosa che a me ha colpito l'ultima volta, l'avevo già raccontato però insomma è curioso se uno non è pratico di nuoto in oceani o insomma al mare aperto, soprattutto quando fa freddo. Sono andato a nuotare a gennaio e sono entrato in acqua. Io è un anno che faccio il metodo Wim Hof, hai presente quello del freddo, respirazione, così via, e poi docia fredda tutti i giorni. Quindi diciamo ho avuto grandi benefici nel tempo, devo dire, mi trovo benissimo. Il freddo non è una cosa che mi spaventi particolarmente insomma, sono lì e dico ok adesso mi metto mentalmente ci sono. Però mi ha colpito perché sono entrato nell'oceano e nel giro di 20 secondi, sono entrato in costume, ok non con la muta, costumino a gennaio. Coraggio. Io e un mio amico inglese che va a nuotare sempre, quindi lui è entrato col costumino tranquillo e io ho detto vado col costumino, sono un vero uomo, devo, I have to prove myself. A questo punto entro e nel giro di 20 secondi le mani non le sentivo più, zero, mani e piedi andati completamente, non riuscivo più a muovermi. Adesso muoio subito, è stato 30 secondi. È pazzesco, cioè. È vero. È verissimo. La gestione della temperatura è un casino ecco in generale. Ma infatti ci sono anche delle creme che riscaldano, che vengono usate nelle gare di acque libere e anch'io quando ero a marzo, a Bournemouth, precisamente a Barton Sea che è un paesino sud dell'Inghilterra che vabbè nessuno conosce. Con la mia ragazza e il suo fratello, mia ragazza che anche lei è una collega nuotatrice, entrati in acqua e faccio, ma anche voi non vi sentite più piedi e braccia e mani? Dato sì sì ma continua a cuoire i scaldi, facciamo bene. Pian piano poi la sensibilità torna però diciamo. Esatto. Peraltro l'altra cosa che mi ha colpito è alla tempia questa sensazione come quando mangi una granita di botto. E quindi questo mio amico invece astutamente aveva le scarpettine, i guantini tipo Topo Gigio e una cuffiettina orrenda in testa che però gli evitava questo effetto freeze. E allora ho detto vabbè la prossima volta anche io mi presento così. Non è molto sexy però insomma almeno non ti ghiaccia. Funzionale funzionale. Esatto. Senti Simone tu hai una storia pazzesca e ringrazio Marco del Checcolo che mi ti ha fatto scoprire come si direbbe nel mio italianofolo. Hai una storia incredibile. Quando l'ho letta ho pensato sono veramente una merda perché cioè tu fai delle robe incredibili e hai una vita pazzesca e quindi ogni volta mi sento veramente un carciofo. Dici, dacci un attimo di contesto perché per chi non ti conoscesse uno dice ok nuoti bene bravo hai credo tre record del mondo hai fatto di abbastanza di recente. Di recente sì. Nuoto parolimpico però con dei tempi notevoli ecco forse la gente non si rende conto che non è che vai piano insomma ecco dacci un minimo di contesto insomma su che cosa fai ad oggi. Beh la mia storia sarebbe partire dall'inizio ad oggi staremo qui ore e ore posso raccontare un episodio per far capire un po' il contesto io per farla breve una gamba più corta dell'altra poi posso stare qui a spiegare la mia storia che è molto interessante un po' lunga però poi la posso spiegare. Dopo questi record del mondo fatti al sette colli di Roma al trofeo sette colli un mio amico e giornalista Alberto Dolfin mi aveva fatto notare che in quanto tempi se facessimo un cento stile libero io Federica Pellegrini e Gregorio Partinieri saremo lì come tempi noi tre saremo testa a testa. E' una cosa che è abbastanza gratificante nello specifico perché io parto con una un disadvantage come direbbero in inglese all'inizio proprio con una disabilità ed è veramente una grande soddisfazione. Wow ma dimmi una cosa torna un attimo indietro così facciamo capire alle persone che stanno guardando il livello di difficoltà che hai dovuto attraversare no perché ci sono disabilità e disabilità dal mio punto di vista no e anche problematiche diverse che uno ha affrontato e ce ne sono alcune molto più complesse di altre e tu hai fatto un percorso dall'inizio particolarmente difficile che se io avessi letto solo quella parte lì della tua storia avrei detto va se non è che ci scommetterei tanto su Simone insomma no date le premesse non so. Beh a parte come dicono i miei genitori non si sarebbero ospitato questo finale nemmeno dal fiorosio dei film o è veramente stata una sorpresa positiva per tutti noi. Beh io sono nato con questa malformazione al femore alla testa del femore al femore in generale che consiste in un femore più corto dell'altro detto in parole povere che però è stata diagnosticata quando avevo già sei mesi. Io nel pancione di mia mamma ero podalico perciò di solito quando un bimbo è podalico si fa il parto cesario e non si fa nascere ma all'epoca non volevano fare il cesario perché l'ospedale Buzzi si contendeva diciamo con l'ospedale di Monta al primato di minor numero di cesari perciò hanno fatto fare una manovra per girarmi a uno stagista. Nel fare questa manovra lo stagista senza accorgersene ha fratturato il mio femore che era già debole di suo e da lì è iniziata un percorso di operazioni quasi infinito fino ai cinque anni dove ho avuto un'infezione di stafilococco aureo che mi ha mangiato in pratica gran parte del mio femore. Poi in Italia tra una cosa e l'altra mi hanno sempre operato in cliniche private fatturate da ospedali pubblici però questo è un gran casino. Su consiglio di un medico cubano siamo andati in Francia perché la mia gamba era come un pezzo di cristallo toccava terra e si fratturava e i miei genitori disperati. Questo bimbo che come hanno detto loro dal giorno più bello della loro vita quando è nato il loro primo genito ha questa discesa di negatività perché una frattura dopo l'altra non riusciva a camminare, infezioni. Così siamo andati in Francia a Parigi dove sono riusciti a salvare la mia gamba perché ho rischiato l'amputazione più volte e anche lì come riabilitazione ho avuto contatto con l'acqua nelle vaschette di un centro riabilitativo per bambini che c'era là. E poi durante questo percorso l'acqua era ovvio l'unico ambiente dove potessi fare attività fisica perché come ho detto qualsiasi tipo di pressione esterna al mio femore avrebbe rischiato di romperlo. Perciò ho sempre avuto questo amore per l'acqua, io dico che ho probabilmente imparato a nuotare prima che abbia imparato a camminare anche perché usando le protesi per camminare ho imparato un po' dopo, non dipendeva solo da me. E poi il nuoto è diventato molto più serio nel 2015 quando mi sono trovato in questo gruppo di campioni paralimpici, una delle quali Arianna Dallamona ci ha intervistato tempo fa e da lì loro erano già al top del top, si stavano preparando per le paralimpiadi di Rio. Io ero un ragazzetto con un po' di talento, un po' di potenziale e il mio allenatore Max è riuscito a farlo crescere, a tirar fuori il meglio di me. Ma da quando hai cominciato a nuotare seriamente, a prescindere dal fatto che stavi nell'acqua all'inizio perché appunto era più facile muoverti eccetera eccetera, quindi era un ambiente più naturale, da quando hai cominciato a nuotare diciamo professionalmente? Professionalmente appunto nel 2015, molto recente, cinque anni fa sembra un niente, però... Cioè fino al 2015 tu nuotavi così come me per divertimento, andavi e facevi la nuotatina rana. Ah ok, ci posso fare pazzesco? Sì perché ho noticchiato un po' da bimbo, notavo in una squadra qua a Magenta perché a Milano quando avevo cinque, sei anni mi avevano messo la parte, no? Non posso stare con gli altri bimbi, devo avere un'istruttura a sé e poi ho venuto qua e mi hanno buttato con tutti gli altri bimbi, come è giusto che sia, per farmi crescere. Ho perso un po' la motivazione, un po' la passione verso la terza media, quegli anni lì. L'ho smesso per un paio di anni, ho ritrovato la passione che avevo perso di quel piccolo me, come un po' il fanciullino, il fanciullino mi basso dentro di me, che ha fatto rinascere quella passione per il nuoto nel 2015 e da lì gli allenamenti sono, diciamo, nel 2015-2016 ho un po' capito lo vero, poi pian piano dal 2017 in poi con anche l'esordio nazionale è diventata una cosa molto seria, una professione ormai. Hai fatto velocissimo, cioè se io inizio a nuotare adesso, io sono negato a nuotare, proprio pessimo, se inizio a nuotare adesso non penso che tra cinque anni sono in grande grado di fare chissà che, però no, devo dire, quindi è probabilmente diciamo una cosa, un talento tuo, però a livello tecnico chi è che ti ha dato invece la tecnica giusta per poi ottimizzare quelli che erano i movimenti? E cosa cambia nel tuo caso a livello di movimenti, se cambia qualcosa? La tecnica mi è stata indubbiamente data da Max, Massimiliano Tosil, il mio allenatore, e anche da Federico Morlacchi che è stato un mio compagno di squadra per tutta la mia crescita e lui è stato campione paralimpico a Rio, è stato campione nel mondo più volte, campione europeo non so quante volte. E mi hanno insegnato tutti i trucchetti del mestiere, hanno cresciuto questo ragazzo, poi io ero e sono tuttora un avversario di fede perché siamo nella stessa categoria, siamo due ragazzi, a volte vince lui, a volte vinco io, però mi ha preso sotto la sua ala protettrice come un fratello maggiore. Nel mio caso, questa è un po' la magia del nuoto paralimpico, è l'abilità dell'allenatore che deve trovare adattamenti a seconda della disabilità perché di disabilità ce ne sono infinite, possiamo stare qui a elencarle a non finire. Nel mio caso, la gamba sinistra che è quella più normale, diciamo, perché non è completamente normale neanche quella, ho avuto degli interventi anche lì, che è la gamba lunga, che fa più o meno il lavoro di una gamba, di un cosiddetto normo nuotato, mentre l'altra è molto, principalmente trascinata, perciò mi tuffo, tuffo e virata, faccio la virata, cioè la capovolta al muro con una gamba sola, e principalmente la mia nuotata, la mia tecnica è tutto di braccia e upper body. Ok, per cui sopra devi compensare la parte dietro in sostanza. Ok, sto notando in chat che c'è un grande fan club in chat, il Simon fan club, c'è Alessandro Cucco che dice, vendo foto di Simo in prima superiore, ok, abbiamo uno spacciatore di foto in chat, c'era anche Luigia Cagiano, ciao tesoro, buona giornata da nonna Ginetta, sin da piccolo eri fantastico, quindi abbiamo la nonna, è la prima volta penso che abbiamo la nonna in chat, che non è mai successo. La nonna tech. Esatto, esatto, e per cui insomma devo dire che c'è una serie di complimenti, insomma, vari, te li salto, entriamo nel merito, Lutilia Mosca Rey, da YouTube, ti chiede che dieta segui e che consiglia ai giovani sportivi? Dunque, la mia dieta è principalmente costituita da tanti piccoli pasti durante il giorno e mai un pasto super abbondante, molto bilanciata, per farla breve si può riassumere un pasto con un mezzo di carboidrati, un quarto di proteine, un quarto di fibre, qualsiasi, qualsiasi, da qualsiasi proteine vegetali, proteine animali, con molti snack durante la giornata, per esempio qualcosa di leggero prima dell'allenamento della mattina in acqua, che non appesantisca, perciò dei cereali, una fetta biscottata con la marmellata, che sembra una cosa non molto d'atleta, ma ci sono i zuccheri, ci sono i carboidrati che ti danno le energie, o un frutto semplicemente, e poi con l'avvicinarsi alla competizione, diciamo, si tende a prediligere un po' le proteine bianche e aumentare un po' per riparare i micro danni del muscolo. Però io sono uno che mangia tanto, sono un gran ragazzone da sfamare, però brucio tutto. Vado di dentro. Però io mi sono intrippato in questo periodo e invece sto facendo intermittent fasting, quindi mi alzo, non faccio colazione, vado dritto fino a pranzo, poi a pranzo mangio tipo tre uova e una banana, e poi a cena invece proteine, quindi a cena mangio di più. Sto cercando di ridurre la mia massa grassa, la mia percentuale grassa per tornare in forma, non so come si dice, fat percentage, whatever. E quindi insomma sono intrippato, mi sto sparando una marea di video, cose, tutorial, gente che mi scrive, ma no, ma prova questa. E ci sono mille teorie, ogni due minuti c'è uno che esce con la teoria. Ma poi noi abbiamo anche scopi diversi, scusi, perché perde il peso, io ho bisogno di energie per mandarmi avanti, perché sennò arrivo alla sera che schiatto a letto e non mi muovo più. Vai giù secco, vai giù secco. Ho visto invece l'intervista a Mike Tyson, che torna adesso a combattere, fa questa esibizione, credo a ottobre, faccia il combattimento, poi in chat ci diranno quando. E la cosa che mi ha colpito è che parlava di un po' di strumenti che lui usa adesso per tornare in forma, cioè a 50 e passa anni, però l'ho visto in alcuni video ed è in una forma spettacolare. E uno strumento che mi ha colpito è questo tapirulan anti-G, l'hai mai sentito parlare? No. Praticamente è un robo dove tu ti metti una specie di salvagente intorno alla vita, vai su questo tapirulan, lo chiudi con come fosse, insomma, chiuso con una tendina, mettiamola così, sei bloccato dentro. Poi inizi a correre e in pratica, gonfiando sto salvagente, diminuisci il tuo peso e quindi corri e non ti sminchi le ginocchia, ad esempio. Quindi lo usi per fare riabilitazione e robe così. Mi ha colpito la roba che c'è oggi, robe, vabbè, la parte del freddo. Crioterapia, fai qualcosa tu di legato al freddo? Non l'ho mai provato, non l'ho mai provato, ma mi piacerebbe provare. Ok. Camera iperbarica, insomma, ne ha elencate 5.000, legali e illegali, insomma, quindi su questo non so. Poi come siamo messi. Chi è che in chat diceva, praticamente nuoti come paltrinieri, ma usando solo le braccia? Cioè, questa era l'osservazione in chat. Cioè, anche andarci vicino è incredibile se ci pensi, ecco, non ti fermi mai a pensare, wow, questo vado veloce. Eh, a volte sì, però da un lato ho la fortuna di avere un allenatore che appena ti monti un po', boom, ti bastona in allenamento e ti fa tornare con i piedi per terra. Nel mio caso col piede per terra, però. Ehm, no, però è veramente gratificante ed è uno dei, uno dei obiettivi, cioè, poter andare veloce come la gente con due gambe è veramente, wow. Incredibile. Quali sono i prossimi, le prossime gare, i prossimi obiettivi che hai, su cosa ti stai preparando? Adesso è tutto abbastanza in forze, perché con lockdown ci dovrebbe essere un meeting a Berlino a metà ottobre, però non si capisce ancora cosa vuole fare la federazione tedesca. Eh, le uniche cose che abbiamo per certe sono gli europei di maggio dell'anno prossimo a Punciala, in Portogallo, nell'isola di Madeira e le Paralimpiadi di Tokyo. Che, eh, fortunatamente ho visto tramite degli articoli, un articolo di Washington Post, sembrano, sembra che si facciano anche se non si troverà un vaccino in tempo. Mmh, e dovrebbero essere quindi agosto prossimo anno? Esatto. Esatto. Una curiosità di voi nuotatori per me è questa. Tu ti alleni magari, adesso non so, un anno per le Olimpiadi, e poi ti giochi tutto in, non so, 20 secondi, 10 secondi, dipende, non so, ecco, da, qual è la gara più veloce che fai tu? Il 50 stile che sono 24 secondi netti, sì. 24 secondi, quindi tu in 24 secondi ti giochi tutto, magari la sera prima, cazzo, sei stato bene, cioè qualunque cosa, e tu hai 24 secondi dove si gioca tutto quanto, così come vale per i centometristi, eccetera. E' una cosa che mi manda fuori di testa, perché da expongista quantomeno c'hai 5 set, c'hai del tempo, parti magari un attimo male, la puoi aggiustare, qua invece è così, al volo, insomma. Come gestisci questo aspetto della brevità? Dunque, durante la gara è un po', si potrebbe parlare della teoria della relatività di Einstein, perché il tempo si contrae, sembra un'infinità, ma sembra passare così in fretta, è un, poi anche a seconda delle gare. La maggior parte delle volte quando ci si tuffa in acqua si è come degli automi, si, quelle stesse azioni, quegli movimenti sono stati fatti talmente tante volte, che ormai una volta in acqua il tuo cervello già sa cosa deve fare, poi nelle gare un po' più lunghe c'è anche un po' più, entra un gioco un po' più di tattica, perché comunque guardi come sono gli avversari, cerchi di capire a seconda delle gare passate chi è andato un po' troppo forte, però è solo allenamento anche qua, tanto allenamento e poi il corpo già sa quello che deve fare, memorizza proprio il cervello, i movimenti, che muscolo deve contrare, in che parte della notata, semplice a dirsi, a farsi non tanto. Certo, diciamo, se sei preparato, arrivi lì, lasci andare e, come dire, il pilota automatico prende sopravvento. A livello mentale hai una routine di preparazione o fai del training mentale di qualche tipo? Sì, a parte, come dice il mio allenatore, il pensiero rallenta il movimento, perciò a volte più è leggera la testa, più è libera, meglio vai. Io sì, ho una psicologa nella mia squadra, adesso è la psicologa della nazionale, abbiamo una psicologa dello sport, che ci aiuta a gestire i momenti no, o l'ansia pre-gara che sia, anche se io, dal mio punto di vista, sono sempre stato un atleta che ha un po' più, sofferto di più l'allenamento rispetto alla gara. Io la gara mi diverto, è quello per cui lavoro duro tutto l'anno, mentre l'allenamento, specialmente quando ero un po' più giovane, un po' più inesperto, soffrivo un po' di più a esprimermi, perché comunque la gara, come hai detto, sono pochi secondi, gli allenamenti sono ore e ore quotidiane, e perciò è piuttosto sopportare per me gli allenamenti. Adesso però, grazie a un po' di training autogeno, meditazione, molta meditazione, sono migliorato in tutti gli aspetti. E come, se tu ci dovessi descrivere la tua giornata tipo, o la tua settimana tipo, quanto passi in basca, quanto passi in palestra, hai delle parti di recovery, massaggiatori, usi qualche strumento particolare, te lo chiedo perché ho appena preso un inverse table, e sono impallinato questo inverse table, mi appendo sempre a testa in giù, sento la schiera che si stira bene, e quindi sono preso da questi temi. In acqua no, in acqua sono dalle 4 anche alle 5 ore quotidiane, più un paio di orette in palestra, e il massaggiatore lo vedo anche principalmente a seconda delle necessità, sento che c'è qualcosa che è un muscolo contrattissimo, che devo far decontrare, chiamo e vado, se no di solito è una volta a settimana. Ok, una volta a settimana, e per il resto, quindi sei in basca, palestra, che qual è? Ogni giorno, una volta, mai, come sei messo? No, si fanno a massimo, a pieno regime, due allenamenti in acqua, perciò uno alla mattina, che poi viene seguito dalla sessione di palestra, e un altro al pomeriggio, sera pomeriggio, perciò verso le 5 di pomeriggio, e anche lì i contenuti di ogni allenamento sono diversi al secondo della giornata, in palestra, principalmente tutto molto core stability, tutto body weight, perciò, perché il nostro obiettivo non è sviluppare, crescere il muscolo, che a volte può, per crescere il muscolo, che a volte può anche ridurre la mobilità, in casi estremi come molti bodybuilders, c'era un video di questo bodybuilder, dove si appendevano un adesivo sulla schiena, e non ci arrivava, però quella è un'esagerazione, e poi in acqua, anche a seconda del, e anche ovvio a seconda delle gare, si lavora su qualcosa di diverso, sulla resistenza, sullo sprint, sullo sviluppo della forza, perciò lavoriamo con dei paracaduti, con la maglietta, con i pesi, che rendono ancora il più difficile nuotare, e questo è un po' come fare della palestra in acqua. Ok. Quello che non riesco a capire, Simone, è arrivato a un certo livello, cos'è che ti dà quel secondo in più, o centesimo in più, quali sono le variabili principali, su cui puoi lavorare per andare, perché nella mia testa, non c'è un punto, una volta che sono lì, più veloce di tanto, come faccio andare, come correre, Corri, diciamo, più veloci così, come faccio andare? E quindi quali sono gli aspetti, su cui andate a lavorare, per affinare sempre di più, e riuscire a avere maggiore efficienza in acqua? Direi conoscere i propri lati negativi, e concentrarsi su quelli, perché può essere scontato, e anche difficile a volte, però sono appunto, migliorare gli aspetti negativi, della tua notata, o della tua routine di allenamento, che aiutano a migliorare la performance, perché se sei bravo, in una cosa specifica, se non è che migliori quella l'aria, devi migliorare le cose in cui sei scarso, ma anche delle piccole accortezze tecniche, perché poi il nuoto, essendo noi in questo ambiente, che è l'acqua, che è un ambiente dove l'uomo non è abituato a stare, nella vita di tutti i giorni, perché siamo fatti versare in piedi, stiare sulla terraferma, è importantissimo sapere quando, dove applicare, la posizione del braccio, la posizione della mano, l'ingresso, molte piccolezze tecniche, che la potenza è nulla, senza controllo dicono, perciò puoi essere forte quanto vuoi, però in acqua devi saper nuotare, perché ho visto di molti atleti, che sono anche molto forti, sollevano un sacco in palestra, belli fisicati, però in acqua poi fanno fatica, infatti rispetto a molti di questi, sono skinny, sono magrolino, alto e magrolino, però alla fine l'acqua non gliene frega niente, se sei magrolino, grosso, chiaro, devi avere la tecnica giusta, e fuori, invece sei di quelli, maniaci, sempre ossessivi, pensi solo a nuoto, parli solo di nuoto, e mentre cammini, ogni tanto fai un po' di sbracciate, io per anni, mentre parlavo, ero sempre, no perché, capito, avevo sempre, il più po' nella testa, non riuscivo a staccarmi mai, e quindi ero insopportabile, ma nel tuo caso, come la vivi? No, io preferisco parlare di altro, molti altri interessi, hobby e altre cose da fare, fuori dal nuoto, anche perché poi, nuoto 24 ore su 24, penso che darei di matto, io ho sempre avuto la piccolino, prima ancora che il nuoto entrasse nella mia vita, avevo la passione per il disegno, che ho tuttora, che coltivo tuttora, anche semplicemente leggere, guardare un film, e poi se l'argomento nuoto esce, ovvio che non mi tiro indietro dal parlarne, però preferisco anche parlare di altro, e lasciare il nuoto per la vasca. Disegno hai detto? Sì. Ah, ma così, disegno come? Spennelli, tempera, acquarello, disegni cosa? No, principalmente il mezzo è la, o la penna a sfera, o la china, perciò inchiostro, principalmente inchiostro, e la prima cosa che abbia mai disegnato, erano squali, pesci, per appunto, animali acquatici, che sono sempre anche stati, e sono tuttora i miei animali preferiti, poi, su quelle cose che disegna il bambino, i dinosauri, draghi, cose così, e adesso mi sono un po' appassionato di recente, a disegnare, a parte di disegni anatomici, prendendo spunto dalle varie, sculture, rinascimentali, o, semplicemente, gli schizzi di Leonardo, un libro qua, gli schizzi di Leonardo da Vinci, che è bellissimo, e a volte prendo ispirazione dal maestro, e cerco di imparare da, dal grandissimo Leonardo da Vinci. Ma, è una cosa che segui, diciamo, da autodidatta, oppure studi, formalmente, anche questo, oppure no? No, 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 da autodidatta, è una cosa che, ho coltivato ancora di più, sul lettino di ospedale, dove ero costretto a non far niente tutto il giorno, e disegnare, era uno dei passatempi che mi aiutava a viaggiare con la testa, e a distrarmi da i dolori e i fastidi quotidiani, ed è una cosa che coltivo tuttora da autodidatta, ovvio, su internet, poi mi informo, vedo molti artisti, c'è un artista sudcoreano, del quale, penso si chiama Kim Jong-lin, del quale sono innamorato, e cerco di imparare, però non ho mai frequentato un'accademia di belle arti, o un corso. Ok, ok, allora se in ascolto ci sono fenomeni di disegno, sentitevi, ti arriveranno richieste di qualunque tipo, no, perché, ogni volta che parlo di qualcosa, arriva sempre qualcuno che scrive, Montimo, guarda, noi facciamo trappianti di capelli in aldaglia, dico, guarda, a me non interessa il trappianto, ti ringrazio, allora, però periodicamente ho gente che chiede, e invece sulla respirazione, cosa fai? perché parlavo con il pelo, Umberto Perizzari poi tempo fa, e ovviamente ci sono mille tecniche, insomma, di respirazione, come ti prepari su questo fronte? La parte di respirazione, la associamo alla parte della palestra, perciò prima di, o anche prima di entrare in acqua a volte, prima di cominciare all'allenamento in palestra, ci centriamo con dei vari esercizi di respirazione, a espandere il diaframma, a respirare nel modo giusto, e una cosa che mi piacerebbe fare in futuro è andare, purtroppo non mi ricordo come si chiama, il nome specifico, in quella vasca da 40 metri per chi fa apnea, dove si allenano quelli che fanno apnea o i sub, e imparare da un esperto della respirazione, perché ovvio facciamo i nostri esercizi e cose, però sarebbe bello approfondire di più questo argomento. Fantastico, ma lo conosci il pelo, pelizzari? Ti metto in contatto con... Ah, molto volentieri, di persona no, però so chi è. È un grandissimo, un grandissimo, guarda, bellissima persona, assolutamente, ti troveresti alla grande, dopo... Con piacere. Quando finiamo ricordamelo che ti collego, e anche lui secondo me sarebbe super felice di far qualcosa insieme, insomma. Detto questo, ovviamente in chat è arrivato Alessandro Oliveri che dice, grandioso, io sono un fumettista, pubblichi su Instagram i tuoi disegni? Pubblichi su Instagram oppure non pubblichi? È tutta collezione privata. No, pubblico qualcosa su Instagram, specialmente nelle stories, infatti l'ho tentato di aprire un profilo solo per i miei disegni, e chissà, magari lo farò prima o poi. Ok, grande, che i tearing hanno notato subito dietro di te, alle tue spalle, eccolo lì, il vecchio kit. Detto questo, c'ho binario 04 che mi martella da esattamente 29 minuti per chiederti, aspetta, dell'oro nei 100 a farfalla, S09, exequo con more lucky. Non so cosa sia S09. S09 è la categoria, come dicevamo, ci sono talmente tante disabilità che, per rendere lo sport equo, vengono divise in categorie. Nella disabilità fisica, la S sta per swimming, è da S1 a S10, dove S1 è la disabilità più grave, e la S10 è quella minima, perciò amputazione di un po' di vita, di una mano. Io sono S9 perché non è né minima, ma né gravissima. Ok. Quella gara che segue è stata fantastica, perché faccio un grande racconto. Federico Morlacchi, appunto, è il ragazzo che mi ha fatto crescere, e mi ha insegnato tutti i trucchetti del mestiere. La sua gara è tuttora il centro del team, non è la sua gara, è uno specialista, ritiene ancora il record del mondo. E io venivo, con la sfacciataggine di un ragazzino, che aveva appena vinto in due giorni, due aure mondiali, con due record del mondo, a provare a dar fastidio all'esperto del mestiere. L'anno prima a Dublino lui aveva vinto, io ero arrivato secondo di poco. Quest'anno io sono partito a cannone, l'anno scorso ormai, che è quest'anno, partito a cannone, il primo 50 come faccio di solito, pian piano mi sono schiantato sul muro gli ultimi 25, Fede con un po' di esperienza, di astuzia, ha cominciato a recuperare, e abbiamo toccato lo stesso centesimo di secondo, vincendo due ori, un'ora ex seco, con il mio compagno di squadra, che è stata una cosa fantastica, che nella storia del nuoto è successa solo una volta, con due americani a Sydney 2000, e penso la prima volta del nuoto paralimpico, ed è stato anche l'oro che ci ha, vedendola un po' filosofeggiando, che ci ha permesso di vincere il medagliere sulla Gran Bretagna, come nazione, come Italia, è stato veramente fantastico, quasi da film. Grazie Binario04 per la domanda, no effettivamente storia pazzesca, Manuele Facchin ci ricorda, che si chiama Y40, la piscina quella profonda, a Montegrotto, a Padova, il CCY40, infatti è venuto fuori più di una volta, e bene bene bene, dopo ricordamelo, e ti connetto, e c'era anche, avevo intervistato, mi sembra Magnini, e c'era Mike Marich, Mike Marich, che seguiva la parte di respirazione, ecco, questo è interessantissimo, poi va bene, ti lascio i commenti, te li guarderai dopo, ma ottimo, 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 e adesso però, Simone è una bella, rivincita, dico una parola brutta, rivincita, però, vedendo tutto il tuo percorso, rispetto a tutti quelli che magari, quando eri più piccolo, così, ti cagavano un po' in testa, come dire, sì questo qua, capito, non va da nessuna parte, e invece uno si sposta oggi, insomma, non è male, ecco, la sensazione lì, secondo me, un minimo di orgoglio, lo devi avere, no, perché, insomma, come no, assolutamente sì, è stata una piacevole sorpresa, è una rivincita, più che nei confronti delle persone, anche nei confronti della vita, che ha cercato di farmi nascere, con un, diciamo, un problema, ma sono sicuro che, dato che tutto ha un senso, questo problema iniziale, è stato super utile, a fortificarmi, e farmi diventare la persona che sono adesso. Dimmi una cosa, Simone, avevo visto, anni fa ormai, un TED Talk bellissimo, di questa modella, che aveva, entrambe le gambe amputate, e usava diverse protesi, con le quali, peraltro, cambiava altezza, cambiava, aveva diverse protesi, qual è la situazione ad oggi? Cioè, ogni due minuti, uno vede, nuove tecnologie, nuove, trovate, le cose, le cellule, particolari, e cose, che situazione c'è ad oggi? Cioè, è una situazione che tu, in un qualche modo, monitori, per vedere, se, esce qualche cosa, che magari ti può, colmare, la parola disabilità, a me fa incazzare, quindi non so neanche come definirla, la tua situazione attuale, la puoi, diciamo, migliorare, oppure, semplicemente, sei in una situazione dove dici, stai bene così, vai dritto così, fine la storia, insomma, come le vivi? Parlando poi dell'ambito delle protesi, è un settore dove mi piacerebbe lavorare in futuro, io adesso sto studiando a Politecnico, Ingegliera Meccanica, e la progettazione delle protesi, è un settore che mi interessa abbastanza, perché vivendo quotidianamente con una, so, conosco i vari pro e contro, perciò, penso di essere una persona, nella posizione giusta, per poter dire un'opinione, e riguardo alla disabilità, quello che da piccolino cercavamo di inseguire, questa normalità, alla fine è anche sbagliato, perché è giusto stare bene col proprio corpo, non è una cosa che abbiamo scelto noi, però se non si accetta la propria disabilità, non si vive più, però, è ovvio che più la medicina fa progressi, più la ricerca fa progressi, che è una cosa importantissima, sul quale donare o anche mettere dei fondi, è meglio per l'umanità in generale, non solo per la disabilità, ma anche per le malattie, è importantissima, anche se io sto bene con me stesso, però non ho nella mia tezza di volere fare un altro allungamento alla gamba in futuro, per cercare di pareggiare le due gambe, sono sereno con me stesso, sono tranquillissimo, molto felice, e sto bene così. Non sapevo che studiassi anche ingegneria meccanica, adesso ci manca solo che, non so, sei un po' della Madonna, e basta, basta, non puoi averle tutte tu. Ingegneria meccanica, studi quando? Nei ritagli di tempo? Sì, nei ritagli di tempo, per assurdo il lockdown, mi ha aiutato, perché con le lezioni che sono trasferite tutte online, per me è più facile, perché se non posso andare in presenza a seguirmi una lezione, adesso me la registro, me la guardo dopo. E nei ritagli di tempo è una faticaccia sturda, però se lo si vuole fare, lo si fa. Non sarà, magari sarà un percorso un po' più impegnativo, un po' più lungo rispetto a quello di uno studente che non ha hobby così importanti, non ha una professione al di fuori dello studio, però è una cosa che si fa. Dovresti avere sul fondo della piscina proiettato il testo dei libri, così mentre nuoti tu ottimizzi, e continui a studiare, capito? Questa dovrebbe essere la tecnologia. Oppure ti ascolti le cuffiette, al posto di sentire il coach, ti metti sul podcast e senti le lezioni. E quando guido in macchina per la piscina l'ho fatto. Ah giusto. Ho registrato le lezioni tempo fa, però. Questa è una cosa che puoi fare. Molto bene. Dopodiché, saluti saluti, mi piaceva sentirti, ti dice Jacopo Gallizio, ok? Dopodiché, aspetta, Simone Maria dice, la parola disabilità mi fa incazzare l'applauso per molti, da un ragazzo come me che ha una disabilità. Perché non riesco a capire, no? Questa distinzione, ancora siamo nel 2020, e allora ci sono i normodotati e i disabili. Ma che cazzo il ragionamento è? ognuno ha delle sue caratteristiche. E come dire, ci sono quelli con i capelli e quelli con i pelati. Sono pelato? Cioè, vabbè, che cosa vuol dire? Abbiamo caratteristiche diverse, no? Non è che... E questo, perché si porta dietro, no? Ci sono quelli di colore, quelli bianchi, e via così. Allora, questo tema, diciamo, della diversity, mi fastidisce sempre molto, e mi... non lo so, insomma, è un qualche cosa su... il dibattito, non so, è sempre difficile avere una conversazione schietta, no? Su questo argomento, e si finisce sempre un po' nei luoghi comuni, e allora il fastidio nasce da lì. Invece, appunto, poi, voglio dire, tu vedi, parli con un sacco di persone che... che dici, wow, questo qua sarà un normodotato, ma è un gran coglione, no? Non è che il normodotato significa allora che c'hai qualcosa... cioè, vabbè, e allora... Comunque, detto questo, Simone, allora, allenamenti abbiamo visti, quella che la tua, diciamo, giornata standard abbiamo visto, studi altre cose che non so, e che combini di strabiliante, perché ho visto prima in chat che qualcuno ha detto, ma cosa farai dopo? Cioè, la domanda è questa, per gli atleti che ottengono dei grandi risultati. quando ottieni un grande risultato, ti abitui a avere quella sensazione strepitosa di dire, caspita, cioè, sono un grande, no? Per quel minuto, dieci secondi, sei un grande, e in quell'ambiente, o magari anche per i media, no? se poi lo sport diventa, pensiamo al tennis, il calcio, tu sei Ronaldo, e allora tutto bene. Quando finisce quel momento sportivo, perché la carriera sportiva inevitabilmente può durare un tot, non più di tanto, a quel punto uno dice, come faccio a replicare quel momento? Perché è un casino, a meno di diventare un fenomeno, anche in altre cose, è complesso. Ci hai già pensato una cosa che è nella tua testa? Oppure, insomma, io dico, lasciamolo nuotare Simone, però lasciamolo nuotare, poi ci pensarei dopo, se hai ancora ragione. Però. Beh, se mi chiedete cosa voglio fare da grande, non rispondo il Simone nuotatore, ma il Simone studente, non lo so ancora, però ho iniziato adesso all'università, sono una matricola, e ancora, come molti di miei colleghi universitari, non lo sanno, non lo so ancora. Però è giusto, è giustissimo questa cosa, sono sempre stato cresciuto con il detto latino, adesso non mi ricordo di chi, mente sana in corpo sano, ed è giusto allenare il corpo, però è altrettanto giusto allenare la mente, perché poi, come hai detto benissimo, la carriera dello sportivo non è infinita. Se arrivi a 35 anni, sei già un fenomeno, specialmente nel nuoto, che è uno sport puramente prestativo e pure espressione del fisico, del metabolismo. Perciò, se dovessi continuare senza studiare, poi arrivo a una certa età, cosa faccio? Vado poi, dato che non parliamo di sport, come può essere il calcio, l'NBA o il tennis, dove ci sono stipendi, comunque salari così importanti, stiamo parlando del nuoto, che in Italia è purtroppo considerato uno sport minore, è importante crearsi, far crescere parallelamente la persona e lo sportivo. assolutamente, anche perché un nuotatore ad oggi, togli la Pellegrini, che magari è un personaggio, Federica, più mainstream, e peraltro è da, da una vita, insomma, nota, è sulla cresta dell'onda e tutti la conoscono, ma, è un nuotatore, cioè, campa di che cosa? Di sponsor, di, di quello fondamentalmente. Sì, di sponsor, e niente, premi medaglia, se ci sono, però, è una volta ogni quattro anni, per le Paralimpiadi, perciò principalmente sponsor, sì. Ok, per cui, insomma, non è facile, io vedo appunto, nei sport minore, adesso cito sempre ping pong, ma ho visto le cifre del ping pong, anche i premi per chi vince magari i campionati italiani, o si qualificano in piedi, sono cifre ridicole, rispetto allo sport, diciamo in generale, grandi sport, o al lavoro, in generale, e non sono commisurati, allo sforzo, che uno deve fare, per riuscire a ottenere quel risultato, per cui fai, fai bene, diciamo a portarti avanti, peraltro anche la parte social, adesso non so quanto tu, sia attivo, però, quello è un posto interessante, perché se uno riesce a crearsi una community, che lo segue, lo apprezza, ti seguono, poi a prescindere, oggi nuoti, domani fai l'ingegnere, o ti inventi una roba, allora lì, è una community, che poi, magari ti supporta in tanti modi, e sulla quale puoi, puoi, diciamo, relazionarti, in tante maniere, per avere magari, dei prodotti, che a volte, proponi, hai un libro, hai un documentario, hai un corso, hai, non so, e quindi, questo secondo me, è un aspetto da coltivare, probabilmente, non è mai facile, quando ci si allena, tutto il giorno, però, non so come la vivi tu, no, no, anch'io, uguale, poi io sono, un millennial, perciò, i social media, ci sono cresciuto, si può dire purtroppo, si può dire meno male, però, ci sono cresciuto, li uso, quotidianamente, però, sono anche lì, un mezzo molto importante, per, per, chiunque. Questo secondo me, appunto, sarà una differenza, rilevante, che vedremo in questi anni, tra gli atleti precedenti, più di generazione precedente, che hanno visto i social, come una rottura di coglioni, non c'ho tempo, non ho voglia, e, e solo oggi, magari, se ne rendono conto, di quanto possono essere importanti, per il dopo carriera, e invece le nuove generazioni, che, che la capiscono di più, questa cosa, perché poi ha un valore economico, molto, molto chiaro, è chiaro, se non ha una community numerosa, che, che lo segue, ed è affezionata, chiaramente ha un valore economico, c'è Mirko Farinella, che dichiara, che disegni benissimo, e ha ancora un disegno, che tu, hai fatto, all'elementari, mamma mia Mirko, andiamo indietro qua, è vero, vero o fake news? è vero, è vero, verissimo, pazzesco, e non è l'unico, ho visto, che dichiara, di avere, di avere un contodisegno, Fabio, Fabio Capitano, dice, bisognerebbe pagare, gli atleti, come i calciatori, sai, non è facile, perché calcio, chiaramente ha avuto, una celebrità, diverse, non puoi avere, tutti gli sport, allo stesso livello, perché aggreghi, numeri e interessi diversi, questo, però, dall'altro lato, a me colpisce, ecco, il fatto che, tu, magari, per diventare, campione italiano, in uno sport minore, qualunque sia lo sport, cioè, può essere squash, ping pong, tennis, qualunque sia lo sport, tu, devi dedicare, anni della tua vita, allenarti, tutto il giorno, tutti i giorni, con una costanza pazzesca, devi avere, talento per riuscire a farcela, devi avere un team di persone, è uno sforzo enorme, ed è molto improbabile, che diventi il numero uno, cioè, questo è, e a quel punto, anche se lo diventi, guadagni due ciocorì, e allora dici, cacchio, no, questo non vale, almeno, quello, il capito italiano, dovrebbe dire, guarda, tu sei a posto, sei a posto, hai dimostrato di essere, più capace, e invece, ecco, c'è ancora una grande, una grande disparità, bene, 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 fammi vedere, se recupero qualche altra, domanda interessante, ma, film hai detto, cosa guardi? sei un appassionato di serie o film? Serie sono molto scarso a seguirle, perché, essendo sempre occupato, sempre in giro, adesso mi sto seguendo Brooklyn Nine-Nine, che è una serie del 2013, che continua tuttora, però, gli episodi sono da 20 minuti, sono veloci, sono semplici, puoi spegnere un po' il cervello, e rilassarti, e è una risata, però di film, mi piacciono un sacco i film, auto, chiamiamole autobiografici, come un libro, però i film su storie vere, o film d'azione, le commedie, sono un po' meno un fan dei film romantici, che poi, se mi metto a guardarli, lo so che, mi commuovo, comincio a piangere, questo ragazzone, che è lì, seduto e piange, però, sì. ho visto di recente, un film, si chiama, è Week Off, credo, il titolo, è con Adam Sandler, e Chris Rock, e c'è Adam Sandler, che deve preparare, il matrimonio, della figlia, e, a parte, è divertentissimo, lo tratto divertentissimo, ma anche, dolce, ecco, e poi Adam Sandler, che per anni, era un po' un cazzone, così, devo dire, è un ottimo attore, un ottimo attore, che mi è piaciuto molto, mi fermo qua, perché ho anche visto, Project Power, con Jamie Fox, dove tu prendi, una pillolina, e poi, e hai un superpotere, però non sai, qual è il superpotere, quello mi manca, bellissimo, quindi l'idea, è forte, diciamo, l'esecuzione, poi potremmo discuterne, però la tipologia di film, è quella, c'è gente che si incendia, gente che, però, vabbè, e libri invece, Smanetti di, libri? Sì, libri sono, cioè, da piccolino, ero un fan, pazzo, cioè pazzo, pazzo curioso, citando, i graphic novel, e i filmetti, andavo matto per i Diabolics, e poi sono, passato a tutti i libri, di Zero Calcare, che è uno dei, gli artisti italiani, più geniali, che conosca, poi il mio libro, il mio libro preferito, da piccolo, avrei detto la storia, di Hugo Cabret, dal quale è entrato, anche un film, bellissimo, anche lì, si torna all'allargamento, del disegno, e poi 1984 di Orwell, è uno dei libri che mi è rimasto più impressi, e non saprei dirvi il perché, però è una storia che veramente mi ha, si è fatta leggere. Ok, grande, grande, io invece mi sono appassionato, in questo momento, di questo libro, di, il dottor, Norman Lazarus, che ha scritto un libro, sulla longevità, lui è, un ottuagenario, che ha fatto, anni e anni di ricerca, sul tema della longevità, e ha scritto questo libro, che è uscito da poco, e, mi piace tantissimo, ecco, di buon senso, pratico, e uno dei cardini suoi, è, l'attività fisica, quindi, è proprio uno dei cardini principali, che dice, cioè, qua parliamo di tutto, ma, perché la gente non fa attività fisica, ogni giorno, alla base, poi parliamo di altro, però, insomma, questo è, uno degli aspetti. Molto bene, senti caro, ti ringrazio, per la chiacchierata, ti passo tutti i complimenti, che sono arrivati in chat, mi unisco al fatto che, siamo orgogliosi di te, ecco, questo è vero, ma siamo orgogliosi di te, a prescindere, dai risultati, capito, se anche arrivi prima, io sono orgoglioso, quale, insomma, sei secondo me, un esempio straordinario, e, un consiglio, che ti senti di dare, un suggerimento, magari a ragazzi più giovani, che, che hanno delle disabilità, e, e che magari si sentono a disagio, o li fanno sentire a disagio, nel loro ambiente, che suggerimento, ti sentiresti di dare? Prima di tutto, di non vergognarsi, perché non c'è niente, di male, non è una cosa che scegliamo noi, di avere, di, se, se si vive in un ambiente negativo, dove ci si sente, discriminati, presi in giro, cercare di cambiare l'ambiente, e, e poi trovare qualcosa, questo indipendentemente dalla disabilità, o no, trovare qualcosa che piace, e farlo, farlo, e, con il supporto delle persone, attorno, le persone che ti vogliono bene, sentirti libero, e, non, far sì che la disabilità, definisca che persona sei, e, definisci te stesso. Assolutamente. Aspetta, ultima domanda, ti rimo ancora un minuto, Stefano Ayad, dice, grandi sportivi, anche di altri sport di ieri, di oggi, che ammiri, o, ai quali ti ispiri? Uh, qua ce ne sono tanti, primo di tutti, Kobe Bryant, è stato uno dei miei idoli, sono anche appassionato del mondo dell'NBA, per la sua mamba mentality, quella di, devo lavorare, più duro di tutti, per arrivare, dove voglio arrivare, era una cosa che veramente, nella quale mi ci ritrovo, e che, poi lui è un, è stato un, un mito assoluto. Niki Lauda, è stato, da piccolino, che ho anche incontrato, una volta, per caso, ci siamo andati una spallata, a Regan, prima di Monza, ho detto, ma come è Niki Lauda? E lui è svenuto, perché se gli è dato la spallata. Era ancora piccolino, fortunatamente, ancora ragazzito. Ce ne sono veramente un sacco, c'è, Niki Lauda, c'è, Pietro Menea, il grandissimo Pietro Menea, che è stato uno delle icone dello sport italiano, e poi, non posso, non nominare, il dio del nuoto, Michael Phelps, che per ogni nuotatore, è scontato dirlo, però lui è, veramente, l'uomo di riferimento, l'uomo di riferimento. Ma perché questo? Perché, anche a me, se tu, mi dici, Monti, fammi un esempio di nuoto, no? Immagina che faccio uno dei miei video stupidi, e devo fare un esempio, e il primo nome che mi viene, Phelps, anche se, boh, sì, l'avrò visto nuotare, ma non è che seguo il nuoto, quindi, però Phelps, nell'immaginario, mi viene in mente lui, nei piedoni, non so, insomma, queste cose qua. Perché, secondo te, è stato così iconico, è così ad oggi, ancora visto? Beh, ha anche aiutato il fatto che, cioè, che è nato in America, semplicemente, perché prima era Spitz, poi è diventato Phelps, oltre al fatto che gli americani sono molto bravi con la comunicazione, come ben sai, e anche il fatto che, essendo americano, aveva le destraffette così forti, e ha aiutato a vincere ancora di più, ed è famoso, cioè, è conosciuto da tutti, anche chi non si intende per niente di nuoto, perché ha fatto delle cose che non hai viste prima, è l'atleta olimpico più vincente di sempre, ed è un personaggio pubblico, è come dire anche Federica Pellegrini in Italia, e anche all'estero, è conosciuta da non esperti del settore, e come. Chiaro, chiarissimo. Simone, ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata, in bocca al lupo e per tutto, resta collegato un secondo, che così ti connetto con Pellizzari, e ci teniamo in contatto, quando passi da Brighton, vuoi fare una nuottatina rana nell'oceano, ci sono, sono pronti, conosco tutti i posti migliori, e la costa. Grazie Simone, avanti tutto, ciao ciao. Grazie, ciao Marco.